Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo approfondimento. Questo non è un approfondimento come gli altri perché ho il piacere di presentarvi un ospite che a me sta particolarmente a cuore, non solo a me ma a milioni di italiani che ne hanno conosciuto il coraggio negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Sto parlando del vicequestore Nunzia Alessandra Schiliro. Ciao, grazie per essere con noi. Ciao, ciao, grazie a voi. Scusate anzi il vento ma sono in pausa pranzo e la Bora di Trieste è arrivata a Roma. Ecco immagino che a proposito di vento e tempesta sarai abituata tu in questo periodo, è solo una metafora del vento istituzionale che si muove contro di te. Ecco, riepiloghiamo in favore dei pochi che non ti conoscono.